dalla testata, contraddicendo con ciò i precisi impegni presi fino a qualche giorno fa e ripetutamente per ottimizzare le risorse. I giornalisti della TGS, per rispetto dei telespettatori, si sono impegnati tuttavia a garantire le loro prestazioni professionali in occasione dell'incontro Italia-Portogallo. L'assemblea della TGS è tuttora aperta e il sindacato deciderà nelle prossime ore nuove azioni di protesta. E ora tuffiamoci dentro a questo straordinario ambiente dello stadio milanese di San Siro che attende con ansia, come tutti noi, l'evolversi di questa partita tra Italia e Portogallo che vale la fase finale dei mondiali americani del prossimo anno. È in pratica una specie di spareggio secco. L'Italia ha a sua disposizione due risultati su tre. Sarà sufficiente agli azzurri ottenere il pareggio o naturalmente la vittoria contro i portoghesi per assicurarsi la partecipazione. Il Portogallo deve invece vincere. Ed ecco le formazioni delle squadre. L'Italia, Di Sacchi con Pagliuca, Benarrivo e Maldini, Stroppa, Costa Curta e Baresi, Donadoni, Dino Baggio, Casiraghi, Roberto Baggio e Signori. Cheirozzi, il tecnico portoghese, ha fatto serrata pretattica. Solo qualche attimo fa è stata comunicata la formazione ufficiale dei portoghesi che si discosta alquanto da quella prevista. Giocheranno per il Portogallo Vittor Bahia, Joao Pinto e Giorgio Costa, Velozzo, Fernando Couto e Paolo Sousa, Vittor Panera, Rui Barros, Joao Pinto, Futre, Rui Costa. Ingresso delle squadre in campo accolte dall'ovazione degli 80.000 di San Siro. C'è naturalmente un clima di straordinaria attesa. 80.000 presenti allo stadio milanese in una serata piuttosto fresca. Vedete il capitano degli azzurri, Franco Baresi. Questo è l'arbitro centrale, Wojcik della Polonia, che si avvale della collaborazione i signori Milewski e Slabik, pure Polacchi, in qualità di guardalina. Ora attendiamo l'esecuzione degli inni nazionali, che sarà fatta dalla banda dei bersaglieri Compagnia Atleti. Si schierano al centrocampo i bersaglieri. Inno nazionale portoghese. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A cementare lo spirito di gruppo. Avete visto i giocatori portoghesi che si sono stretti la mano durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Ora i bersaglieri. Inno di Mameli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In particolare e curioso hanno fatto parte della compagnia Atleti dei bersaglieri, parecchi dei giocatori azzurri che giocano stasera, Maldini, Costa Curta, i due Baggio, Casiraghi e poi in panchina, Marchegiani, Panucci, Albertini, Mancini e Simone, tutti hanno fatto parte anche della nazionale militare. ed ecco i due capitani con l'arbitro per le formalità di rito. Situazione. L'Italia, come avete visto dalla sovrimpressione che vi è stata presentata in apertura di telecronaca, ha 14 punti con una differenza reti di 14, più 14, 21 reti all'attivo, 7 al passivo. Anche il Portogallo ha 14 punti con più 14 di differenza reti ma ha segnato di meno, 18 gol, ne ha subiti solo 4, 3 dei quali contro l'Italia nella gara d'andata. La Svizzera che in contemporanea gioca a Zurigo contro l'Estonia ha 13 punti ma battendo gli Estoni con due gol di vantaggio avrebbe la matematica sicurezza quale che sia il risultato di San Siro di andare negli Stati Uniti. Ed ecco gli azzurri che si schierano. Inutile dire che affidiamo tutte le nostre speranze e il nostro incoraggiamento agli uomini di Sacchi. C'è una straordinaria attesa e forse questa è la partita più importante che affronta la nazionale italiana da quando alla sua guida c'è Arrigo Sacchi. Vedete intanto le moltissime personalità presenti in tribuna. Avete visto Boni Perti, c'è naturalmente il presidente della federazione italiana giococalcio Matarrese assieme al vice Michele Pierro. I vertici della IP. Ecco ancora Boni Perti, vedete. Ed ecco Arrigo Sacchi. L'espressione tesa. Partita che l'Italia deve giocare al meglio delle proprie possibilità. Ci siamo naturalmente un po' complicati l'esistenza cedendo tre punti su quattro alla Svizzera. Poi ci eravamo rimessi in corsa ottimamente andando a vincere in Portogallo. Ma questa è la gara decisiva. Tutto è pronto. Consulta a vista i propri collaboratori, l'arbitro Wojcik. Fischio d'avvio. È cominciata Italia-Portogallo. Forza azzurri. Rui Costa in possesso di palla per il Portogallo. Il passaggio è sull'anziano veloce sul quale fa contrasto stroppa. E Benarrivo ora che si impatrisce del pallone. Volata di Benarrivo. Fallo di Rui Costa. Primo minuto di gioco a San Siro tra Italia e Portogallo. Non dobbiamo mai dimenticare che si tratta di una semplice partita di calcio e come tale va interpretata e vissuta. Tuttavia l'emozione è grande e la posta in pallio è di quelle che contano davvero. Benarrivo. Dino Baggio. Con il destro. Affiondare in profondità. Stacca Fernando Couto. Il pallone però controllato da Joao Pinto. E c'è ancora un calcio di punizione per il fallo su Signori da parte di Joao Pinto. Vibrante avvio di partita degli azzurri. Casiraghi va a piazzarsi nei pressi del portiere Vittor Bahia. Mentre Signori che scodellerà centro area il cross. Parte il tiro di Signori. Ribattuto da Rui Barros. Poi la palla è per Donadoni. Futre gliela ruba. Futre naturalmente è uno dei giocatori più attesi. Donadoni a recupero. Maldini trova un barco. Contatto ancora con Rui Barros. Azione regolare di Rui Barros. Joao Pinto ora. Paolo Sousa. L'organizzatore di gioco. Ancora Joao Pinto. Il più vecchio dei due Joao Pinto. L'altro ha il numero 9. Recuperano il pallone ancora gli azzurri. Roberto Baggio. Signori. Ancora Baggio. Fermato. Due minuti di gioco. Zero a zero. Roberto Baggio. Su di lui in copertura Vittor Panera. Il tocco centrale per Donadoni. In profondità il colpo di testa di Joao Pinto. Il controllo di Rui Costa. Si distende ora in avanti il Portogallo. Un dribbling su Donadoni. Sempre Rui Costa in possesso di palla. Cambia gioco da quest'altra parte per Velosso. 36 anni. Il tocco centrale. Poi all'indietro Paolo Sousa. In profondità. Attenzione. Copre la retroguardia. Tino Baggio. Signori. Si incrocia con Donadoni. Va Donadoni. Converge. L'impostazione. E su Stroppa. E largo. Ben arrivo. Parte il cross di Stroppa. E il colpo di testa è stato di Fernando Couto. Con Ben arrivo pronto a effettuare la rimessa laterale. Lascia poi l'incarico a Stroppa. Ben arrivo. Palla sul sinistro. Roberto Baggio in area. La chiusura è di Velosso. La palla messa fuori ma proprio sul piede di Stroppa che può operare il cross. Effettuato. Stacca Casiraghi. Battuto in acrobazione da Fernando Couto. Poi Maldini. Joao Pinto. Ancora Maldini. Ottimamente. Grande giocata di Maldini. Intervento irregolare di Paolo Sousa su di lui. Calcio di punizione. Buona via degli azzurri. La spada di Sacchi naturalmente non adotta alcun atteggiamento prudenziale. Come avete visto fin dalle prime battute gli azzurri hanno assunto l'iniziativa. costringendo anche ad alcuni interventi irregolari i nostri avversari. Verso il signore il suggerimento. La palla carambola nella zona in cui opera Dino Baggio. Opportuno il tocco per Maldini. Tutto spostato a destra. Cerca spazio Maldini. Su di lui fa Paolo Sousa. Ed è ancora calcio di punizione. Paolo Sousa facendo l'arbitro di essere intervenuto sul pallone. ma il gioco quantomeno d'ostruzione era irregolare. Punizione. Quattro minuti e mezzo. 0-0 a San Siro. Italia-Portogallo. Gara spareggio per andare in America. Agli azzurri comunque basta anche il risultato di parità. Signori, Roberto Baggio nei pressi del pallone. Il saldatore in area tra i quali Dino Baggio, Maldini, Casiraghi. Il cross, i signori. Lo stacco di Maldini, poi Dino Baggio. E su di lui di Corbaia in presa. Maldini che rientra. Notevole lo sforzo della Rai con molte telecamere. Ecco Donadoni che riconquista il pallone a centro campo. Il suggerimento in profondità per Casiraghi. Il tocco per Roberto Baggio. Ma Baggio è ancora messo giù. Calcio di punizione. A sei fallosi portoghesi. Vedete i volti tesi che denotano la massima concentrazione dei giocatori in campo. Portogallo che finora è stato costretto sulla difensiva dal veemente avvio degli azzurri. Gara preparata con la consueta, meticolosa precisione da parte di Arrigo Sacchi. Che ha avuto a disposizione per alcuni giorni i giocatori li ha attivati anche mentalmente. Per inserirle appena nei suoi schemi e soprattutto per trovare la giusta concentrazione. Potrebbe battere Roberto Baggio ma anche signori. Donadoni sul pallone. Finta signori. Alto. Sembrava che Keiroz fosse intenzionato a schierare la formazione a 5 con Pace come libero. Il giovane Pace invece è uno dei tanti elementi con i quali Keiroz ha vinto due titoli mondiali a livello giovanile e in panchina. E Paolo Sousa ora che imposta. Chiamando in causa Joao Pinto. Ancora Paolo Sousa. Velozzo. Si è affidato agli anziani Keiroz, Ibarri, Veloso, Joao Pinto, Vittor Panera. Un giocatore di molta esperienza. Ecco Velozzo. Il lancio in profondità. Il bel colpo di testa di Costa Curta. Il tocco di Roberto Baggio. Il lancio di Donadoni. Ma c'è Joao Pinto che lascia sfilare in fallo laterale. La rimessa è a favore di Vittor Panera. Da questi a Paolo Sousa. Il tocco ancora per Panera. Il lancio in profondità. Il colpo di testa di Baresi. Dino Baggio. Largo a cercare signori. C'è anche Donadoni sulla sinistra. Eccolo servito. Va Donadoni. Con l'angelo al centro. Ha attaccato ancora irregolarmente. C'è calcio di punizione. Moltissimi falli. Con ammunizione. C'è ammunizione. Combinata a Paolo Sousa. Al settimo del primo tempo. Prima ammunizione della giornata. Per proteste a Paolo Sousa. Roberto Baggio. Ottimo il controllo. Il cross da quest'altra parte. Il colpo di testa di Casiraghi. Dino Baggio. Un tripling. Poi viene intercettato. I portoghesi vengono in avanti con Paolo Sousa. Ma bravissimo. Ben arrivo. Spezza la loro trama. Donadoni. Poi ha dato a stroppa. Sta giocando con straordinaria intensità la nostra nazionale. Velozzo. La rovesciata di Barros. La palla che filtra in profondità. Il recupero di Dino Baggio. Sulla palla c'è Costa Curta. Che tocca l'indietro a Pagliuca. Ancora Costa Curta. Letteralmente aggrediti i portoghesi dall'avvio spuneggiante degli azzurri. Stacca altissimo Fernando Couto. La palla giunge a Joao Pinto. Che effettua il suggerimento verso Joao Pinto Vieira. Palla fuori. Tagliuca. Nove minuti di gioco. Zero a zero. Sono impegnati per questa lunga serata di calcio con me e molti altri colleghi. Galeazzi, Civo, Livitanza, Zuccalà, Paolo, Ferrari, Casarin. Perché dopo la fine della partita ci sarà tutta una serie di interviste, di collegamenti con i quali faremo il punto sulla situazione. Non soltanto per il girone dell'Italia e del Portogallo ma anche per gli altri gironi. Prova il Portogallo ora sulla destra. C'è Baresi a sbettare. Persacchi, un ritorno a San Siro. Stadio che ha visto le sue geste alla guida del Milan. Dino Baggio. Palla però per Paolo Sousa in profondità a Marrosch. Il sinistro di Futre. Alto. Il quadrato Paolo Futre. Giocatore temutissimo. Come sapete è stato ingaggiato dalla Reggiana. Un altro primo attore per il nostro campionato. Baresi. Ben arrivo. Vediamo intanto la conclusione alta di Futre. Centralmente il suggerimento. Tentano di approfittare i portoghesi. Sbarione di Costa Curta ma sulla palla. Ancora Costa Curta che attende l'uscita di Pagliuca. Signori. Donadoni. 4-4-2 classico della nostra formazione. Maldini. Baresi. Franza Baresi. Casiraghi. Lo ferma. Fernando Couto. La palla per Stroppa. Per Ben arrivo ora. Ben arrivo punta veloce. Converge. Cerca una soluzione. Batte lunghissima cercando signori. Ma cerca un po' di testa di Joao Pinto. Ora è Vittor Paneira. Che fa filtrare verso Paolo Sousa. Largo a cercare Rui Barrosch. Rui Barrosch. Giocatore ben noto. I tifosi italiani. Ha militato nella Juventus. Il tocco all'indietro è ancora a favore di Veloso. Veloso combina con Vittor Paneira. Il tocco di questo è a Paolo Sousa. Ancora all'indietro a Veloso. Centralmente. A imbeccare Rui Costa. Buona la giocata di Rui Costa. Che poi trova un suggerimento largo per Futre. Converge Futre. Velocissimo. Tettativo di triangolo. Fermato. Roberto Baggio. Ottimo l'aggancio. Stroppa. Il lancio in profondità. Ancora per Roberto Baggio. che salta un avversario. Superiorità numerica dei nostri. Palla per Casiraghi. Casiraghi è la caccia del pallone. Lo ferma però Fernando Colto. Ma sulla sinistra era libero signori. Ha combinato centralmente Roberto Baggio. Ma sulla sinistra era liberissimo signori. Ripartono i portoghesi. Rui Costa. Gara interessantissima. La palla è ora per Joao Pinto. Fermato. Carambola all'indietro del pallone. L'altro Joao Pinto. Anticipo secco di Maldini. Signori. Dino Baggio. Profondo. Fernando Colto. Sorveglia la situazione. Sembrava che dovesse giocare in marcatura. Uomo su Roberto Baggio. In realtà gioca da difensore centrale. Assieme a Giorgio Costa. Mentre i due esterni sono Joao Pinto e Veloso. Ecco Veloso ora in possesso di palla. C'è il disturbo degli azzurri. Recupera il pallone Roberto Baggio. Va al dribbling su Giorgio Costa. Lì libera l'aria. Ancora a fondo Maggio. Giorgio Costa però in pericolo. Lo ferma. Grande esperienza. Paolo Sousa. Rui Costa. Futre. Cuorigioco. Cuorigioco di Joao Viejo da pinta. Come vedete in pinto. Come vedete in quadrato. Vedete la posizione regolare del giocatore portoghese. Signori ancora. Sale l'urlo. Italia Italia. Roberto Baggio. Costa Curta. Stroppa. Fermato. Rui Costa. In propria potenza cercare futre. Baresi. Baresi prolunga su Pagliuca. Che ad evitare guai. Non poteva controllare con le mani. Mette di piatto in fallo laterale. 13 minuti e mezzo. Grande avvio degli azzurri. Stanno risalendo i portoghesi. C'è grande tensione in campo. Rui Costa. Largo dalla parte opposta. Joao Pinto. Mi si avvicina Signori. Il triangolo lungo e con l'altro Joao Pinto. Può andare al cross. Il colpo di testa di Baresi. Poi Joao Pinto. Il tiro alla parada di Pagliuca. Prima conclusione dei portoghesi al quattro dicesimo. Intanto mi segnala Casarini che a Zurigo dopo un quarto d'ora di gioco svizzera e l'estonia sono affero sulla 0-0. Naturalmente il risultato di San Siro va combinato con quello di Zurigo. Fermato Roberto Baggio. Grande determinazione anche da parte dei portoghesi. Passaggio di palla con Paolo Sousa. Rui Baros. Sousa. Veloso. Destro. A cercare lo scatto ancora di Rui Baros. Il quale seppena arrivo. Controllo troppo profondo di Rui Baros e la palla si spegna a fondo campo. Capita che sta... Mantenendo tutte le promesse d'età. Costa curta. Baresi. Ben arrivo. Stroppo. Roberto Baggio, sinistro alto. Si è girato molto bene, ha caricato il sinistro, ma tutta risultata alta. C'è da sottolineare l'insidia costante del fondo del terreno di San Siro che non è perfetto. Rivediamo. Sinistro comunque svirgolato che termina altissimo. La recupera del pallone è problematico. Si gioca da un quarto d'ora abbondante nel corso del primo tempo, risultati di 0 a 0. Paolo Sousa. Rui Costa. Pelosso. Rui Costa. Ben arrivo. E fallo poi di Ben arrivo, anche se in precedenza forse il giocatore portoghese aveva trattenuto regolarmente il pallone tra i piedi. Non è intervenuto l'arbitro polacco Wojcik sugli sviluppi dell'azione, il fallo che abbiamo rivisto. Ben arrivo. Intanto Key Ross si è alzato dalla sua panchina, ha chiamato accanto a sé Rui Costa per dargli delle indicazioni. Lo invita ripetutamente il delegato UEFA a stare seduto. Mentre il gioco è in terrotto. Per l'infortunio capitato al giocatore portoghese, vedete le gravinate di San Siro. Si rialza, intanto Veloso. Tocca a Futre. Da questi a Rui Costa. Paolo Sousa. Gioca molto arretrato, il rinvio di ben arrivo. Il pallone messo giù da Rui Costa ancora. Palla per João Pinto e riesce ottimamente con la punta del piede a deviare il calcio d'angolo Maldini. Sulla buona intuizione del difensore esperno a destra portoghese, João Pinto, che ha sentato il dribbling in profondità. Va la battuta. D'angolo Futre. E viene in avanti anche Fernando Couto, tenibilissimo colpitore di testa. Ecco Fernando Couto che cerca di farsi largo in area. Palla pericolosamente in avanti. Fuori gioco. Fuori gioco proprio di Fernando Couto. E' una partita che non ci consente di stare tranquilli. Rivediamo intanto, ecco, il colpo di testa di Ritor Panera che rimette in avanti. Facciamo la posizione regolare di Fernando Couto. Ancora i portoghesi. Ritor Panera. Tocca lì dietro a João Pinto. Da questi a Paolo Sousa. Cambia gioco su Veloso. Buona organizzazione da parte dei portoghesi. L'anticipo di benarrivo. Donadoni. Evere del fondo del terreno. Che il ganna di Novaggio. Provano i portoghesi. Costa Curta. Rinvio di sinistro. Il colpo di testa di Paolo Sousa. La palla per Donadoni. Largo a cercare signori. Cerca una soluzione signori. La prova con il passaggio a Dino Baggio. Che si libera del pallone a favore di benarrivo. Ecco benarrivo. Lo aspetta stroppa. Gli fa spazio. Convergendo verso il centro. Il passaggio. Imprudenza all'indietro. Su posta curta. Che dà signori dalla parte opposta. Su signori Joao Pinto. Dino Baggio. Con la punta del piede. Sbagliato il passaggio. Paolo Sousa. Joao Vieira Pinto. Velocissimo. Arriva l'altro. Joao Pinto sulla destra. Ecco lo servito. C'è Maldini su di lui. La filta. E ancora Maldini lo ferma. Il disimpegno in collaborazione con Donadone. La palla. Che diventa facile preda di Pagliuca. Fallo di Roberto Maggio. Su Paolo Sousa. Dopo aver subito la grande patenza degli azzurri. Il Portogallo ha riorganizzato la propria manovra. È una squadra formata da tanti ottimi palleggiatori. Maestri nel tessere. È una fitta trama di passaggi molto precisi. Per attendere poi l'improvvisa verticalizzazione nel momento più opportuno. Vedete anche questo bel triangolo sul quale però stroppa. Si produce in un buon recupero. Il suo colpo di tacco troppo lezioso. Consegna il pallone a Rui Barros. Da questi a Futre. Scatto in profondità Rui Barros. Futre fra tre avversari. Fermato. Signori. Con il sinistro. Un po' slegata. Troppo lunga. In questi ultimi minuti della nostra formazione. Rimesso dagli azzurri. Dona Dona. Dino Balter. Roberto Balter. Scatta stroppa dentro. Grande suggerimento. Angolo. Ultimo l'inserimento di stroppa sul passaggio che rivediamo molto bello filtrante in profondità di Roberto Balter. La chiusura è stata di Belosso. L'immagine che il regista De Pasquale si invia di nuovo in diretta per questo cura della bandierina degli azzurri. Sono stroppa i signori accanto al pallone. Chiudono la distanza regolamentare gli azzurri. Vedete sulla linea di fondo campo c'è un segno bianco che indica dove i giocatori devono stare. I giocatori che subiscono naturalmente il corner. Il cross. Questi signori. Vittor Bahia. Alla presa. Il quartiere è molto giovane Vittor Bahia. Ormai di buona esperienza. Rui Costa. Paolo Sousa. Joao Pinto. Rui Costa. A cercare Futre e Semaresce. Gioca con una grande circospezione come giusto che sia gli azzurri. Siamo al ventiduesimo del primo tempo. Risultato è di 0 a 0. Ha tentato di sorprendere la formazione avversaria. L'Italia con un avvio bruciante. Rui Costa. Vittor Bahia. Joao Pinto. Palla in profondità. Maldini lascia spilare. Pagno e l'attitutivo di controllo di Vittor Paneira. Sempre 0 a 0. Ricordo che nella gara d'andata in Portogallo a Da Porta, la storia da Xantas, abbiamo vinto per 3 a 1. Anche in quel caso c'era stato un fulmineo fio degli azzurri con gol di Roberto Baggio dopo qualche manciata di secondi e raddoppio di Casiraghi. Aveva poi segnato il Portogallo confermando Couto un gol irregolare convalidato dall'arbitro. Successivamente aveva regolato il conto finale di Novaggio. Intanto c'è stato uno scontro a centrocampo. Ecco che rivediamo. Una zuccata. Dovrebbe essere Casiraghi il nostro giocatore. Si è giocato su ritmi accesissimi e c'è da tenere nella dovuta considerazione anche lo stato del terreno di gioco. che è molto insidioso. Ora a terra è il giocatore portoghese che è Jorge Costa. Rui Costa, secondo l'addizione corrente, i giocatori portoghesi hanno tutti un proprio nome di battaglia. Ecco ancora Keyrosh che approfitta per chiamare accanto a sé Rui Barros. Si è rialzato Jorge Costa. Pallone che era stato volontariamente lanciato in fallo laterale dagli azzurri. Quindi i portoghesi con ogni probabilità restituiranno all'Italia il pallone. Lo sta facendo Velozo. Benavuto. Pagliuca. Guarda il pallone fuori dalla propria area del nostro portiere. Poi batte lungo il sinistro. Centralmente. Bello il copertino di testa di Casiraghi. Dino Baggio. Centralmente a Roberto Baggio. Finta di corpo di Baggio. Finta di far entrare il pallone. Casiraghi. L'uscita tempestiva del portiere Vittor Bahia. Gioao Pinto. Paolo Sousa. Vittor Panera. C'è un buco da quest'altra parte. Veloso. Stroppa a chiudere. La combinazione con Rui Costa. In destro. Profondo. Lo stacco di Maldini. La palla però per Vittor Panera. La combinazione ancora con Futre. Maldini spezza la trama in combinazione con Donadoni. Viene in avanti. Si sovrappone. Riceve. Signori. Con la punta del piede lo ferma. Gioao Pinto. Donadoni. Dino Baggio. Roberto Baggio. Buono il controllo. C'è Stroppa. Servito. Lo stop. Veloso su di lui. Ma sostegno. Ben arrivo. Servito. Palla sul sinistro. Il cross. Lo stacco imperioso da parte di Fernando Couto. Il colpo di testa poi di Donadoni. Alla rincorsa del pallone. Signori. Lo tiene in campo. Affidandolo a Baresi. Di prima. Ancora Donadoni. Donadoni mantiene il passaggio del pallone. E lo cede quindi a Costa Curta. Costa Curta. Donadoni. Baresi. Roberto Baggio. Fermato. Dall'intervento di Rui Barros. Che diceva ancora il passaggio di ritorno. Poi la combinazione con Rui Costa. Avanza di Torpaneira. S'allarga Futre. Ecco l'ho servito. Ancora Futre. Rui Costa. Gioao Pinto. Paolo Sousa. Combinazione ancora con Gioao Pinto. Ottimo. Il palleggio ravvicinato dei portoghesi che costringono in falla laterale i nostri. È una partita difficile. 0-0 dopo 27 minuti. Vi ripeto che l'Italia e il Portogallo si giocano il diritto a giocare la fase finale dei mondiali. Velozo. Il suo cross. La palla in area messa giù da Rui Costa. Poi è Gioao Pinto. Il suo destro altissimo. Ma i portoghesi che si sono ottimamente riorganizzati dopo aver dato l'impressione di soffrire un po' il vehemente avvio degli azzurri. Stanno giocando un buon match. Non si sblocca la situazione intanto a Zurigo. È 0-0 tra Svizzera e Estonia. La Svizzera, ve lo ricordo, ha un punto in meno rispetto a Italia e Portogallo. Può solo sperare il Portogallo e l'Italia. Possiamo solo sperare che la Svizzera non batta le stone. Per loro sarebbe tutto molto più facile. Intanto l'ambito non interviene. C'è Paolo Sousa in possesso di palla. Fernando Couto sbaglia il rilancio. Tino Baggio in proponità. Roberto Baggio si gira bene. Roberto Baggio la parola per Maldini. In giro! E il pallone deviato in angolo da Vittor Bahia. Grande conclusione di prima, di destro, radente di Paolo Maldini. Che vedete inquadrato sul suggerimento di Roberto Baggio. E' parata distinto da parte del doppiere Vittor Bahia. Ecco la conclusione di Maldini. Insidiosissima. Bravo. Vittor Bahia. Angolo per l'Italia. 29 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Palla fuori. Roberto Baggio. Il cross. Il colpo di testa di ben arrivo. Che fa da torre ma non ci sono mai gli azzurri. Nella zona in cui piomba il pallone. Vittor Bahia. Molto bravo. Qualche attimo fa. Sulla conclusione di Maldini. Fernando Couto. Vedete che gli azzurri non portano il pressing nella metacampo avversarie. Velozzi. 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 E c'è calcio di punizione. E' saltato un po' fuori tempo Baresi su Futre. Lo vediamo. Calcio di punizione. Comandato dall'arbitro il polacco Wojcik. A proposito del quale i portoghesi. In maniera per la verità apparentemente strumentale. Hanno avuto parole di scarsa considerazione. I febbrivi giorni della vigilia. E Paolo Sousa sul pallone. Poco più dietro Fernando Couto. Trova in destra Fernando Couto. Lo ferma signori. Sulla carambola Veloso. Ecco il suggerimento largo per Joao Pinto. Giocatore molto esperto. Fermato da Benarrivo. Ma i portoghesi sono abilissimi nel recupero del pallone. E ora Jorge Costa in possesso di palla. Joao Pinto. Quindi Vittor Paneira sul filo del fallo laterale. Scatta in profondità. Donadoni. Svizzera in vantaggio al trentunesimo. Con Knup 1 a 0. Fallo intanto su... Stroppa. Si rialza Stroppa. E si riprende con questo calcio di punizione. È stato Benarrivo che ha dato la costa curta. Riceve il passaggio di ritorno. Cerca un parco sulla destra. Riesce a battere il cross in corsa. Ribattuto dal colpo di testa di... Giorgio Costa. Poi a centro campo è Dino Maggio che commette pallo su Joao Pinto. Ecco lui Baros. Futte. Fermato. 31 minuti e mezzo di gioco nel corso del primo tempo tra Italia e Portogallo a San Siro. Rui Costa. Lunghissimo il lancio a cercare Joao Pinto. Vedete l'esperto giocatore che mette a terra e serve Vittor Paneira. Il quale dà centralmente all'altro Joao Pinto. Da questi a Rui Costa. Provano i portoghesi da quest'altra parte con Velosso di primo e suggerimento in profondità. C'è Costa Curta che preoccupatissimo della vicinanza di Futre. Scalamento in fallo laterale. Ancora Futre. Rui Baros. Futre. Fermato da Costa Curta ma c'è ancora Rui Baros. Tenta ricombinare con Futre. Poi il pallone di Vittor Paneira. Benarrivo. Caricato. Cancio di punizione. A favore naturalmente da Vittorio. E trascorrono i minuti. E il Portogallo conferma di essere una formazione estremamente agguerrita. Molto ben disposta sul campo. Tatticamente capace di coprirsi e controattaccare. Barista. Verso Casiraghi. Lascia sfidare Casiraghi. La bella è verso Signori. Joao Pinto su di lui. Arriva anche l'altro Joao Pinto. E ora Joao Vieira. Pinto che dà centralmente a Vittor Paneira. Da questo e da quest'altra parte. L'ottimo anticipo di Benarrivo. La palla carambola su Donadoni. Grande pressing a centrocampo dei portoghesi. Baresi. Largo a Signori. Avanza anche a larghe filate sulla sinistra Maldini. Lo aspetta ma poi va alla battuta. Signori. E Joao Pinto ha la possibilità di orchestrare il contrattacco portoghese. Siamo però in 5 contro 2. Ecco Futre. Baresi. Signori. Gara tattica. Giocate con grandissima attenzione degli azzurri. Si sgancia ora Baresi. Tocca a Donadoni. S'allarga stroppa. Cerca una soluzione da Donadoni. In becca Dino Baggio. Dino Baggio cerca di evitare Paolo Sousa. Va in profondità ma inevitabilmente poi trova un altro difensore che lo ferma. L'inquadratura è per Roberto Baggio. Vittor Panera. Paolo Sousa. Ancora Vittor Panera. Joao Pinto. 2-0 per la Svizzera. Sull'Estonia. Svizzera praticamente negli Stati Uniti. Vellosso. Joao Pinto. Dentro. Baresi. Attenzione. Voluntari. Sampone. Miracolosamente Baresi. Poi Benarrivo. Ora stroppa. Sbaglia stroppa. E c'è Futre sulla sinistra. E tra in gara è a Futre. C'è su di lui Benarrivo. Pasticcia Futre. La palla si spende a fondo campo. Le notizie che giungono da Zurigo, che tra l'altro erano facilmente prevedibili e che vedono la Svizzera in partaggio. Già per due gol a zero. Prendono ancora più con la matica in questa partita. Attenzione. C'è Joao Vieira Pinto. Il suo tiro. Che spila a fondo campo. Per ora il disimpegno degli azzurri. Conclusione di Joao Vieira Pinto. E palla sul fondo non di molto. Signori. Non è un gran momento dagli azzurri. che ci avevano illuso con una partenza straordinaria. Maldini. Donadoni. Roberto Baggio. Stroppa. Stroppa. E' un buon tiratore. Stroppa. Di destro. Però tocca fuori a Dino Baggio. Prova in destro. Dino Baggio. E il palone si spegne a fondo campo. Con deviazione. C'è calcio d'angolo. 36 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Il risultato di 0-0. L'Italia. Bacca un altro tiro dalla bandierina. Per effetto di questa conclusione. Dino Baggio. Finita fuori dopo deviazione di un avversario. E Stroppa. Che se il cingere a battere dalla bandierina. Fanno da lui c'è anche signori. In avanti Dino Baggio e Maldini. Assieme a Casiraghi. Che sta disturbando il portiere Vittor Bahia. Parabola in quattro. Il colpo di testa è di Veloso. Signori. Attaccato da Rui Barroche. Che gli ruba il pallone. Poi Costa Curta. Che era in pallo laterale. Paolo Sousa. E sentite l'urlo dei sostenitori portoghesi arrivati qui a Milano. Intanto è Paolo Sousa. In possesso di palla. Il tocco è per Joao Domingos. Pinta. Pinto all'indietro. Masi che è nato puto. E esce il portiere Vittor Bahia. E scaraventa lunghissimo in profondità per il colpo di testa di Baresi. Ma la palla però è di Vittor Panera. Davanti a lui Donadoni. Che lo ferma. E ancora Vittor Panera. Che fa filtrare un buon pallone centrale per Paolo Sousa. Da questi a Joao Vieiro Pinto. Da Joao Pinto. Tocca l'arco all'altro Joao Pinto. Serie rifinita su Maldini. Converge. Parte un tiro che si spegne a fondo campo dalla parte opposta. Va a recupero Pagliuca. Mentre l'inquadratura era riservata all'arbitro polacco Wojcic. Che finora ha ben diretto una partita per la verità non difficile. Donadoni. Grande correttezza in campo. Lancio lungo centrale. Con la testa di Joao Pinto. Paolo Sousa. L'altro Joao Pinto. Paolo Sousa. Vittor Panera anzi. Questo è Paolo Sousa. Rui Costa. Veloso. Ancora Rui Costa. Ottima la triangolazione. Sempre Rui Costa. Futre. Rui Costa destro sul fondo. Sta giocando bene il Portogallo. 38 minuti nel corso del primo tempo. Ben arrivo. Abbiamo rivisto la conclusione sul fondo. Dino Baggio. Casiraghi. C'è Giorgio Costa su di lui. Anche Veloso. Palla tenuta in campo. Combinazione fra i due. Rimvio lungo di Veloso. A centro campo. Tenta lo stacco Donadoni. Più alto di lui. Joao Pinto. Poi Dino Baggio. Ora Maldini. Signori. Sovrapposizione di Maldini. Pallonetto a cercare Maldini. Si alza la bandiera. Guarda linea. Segnalano fuori gioco. Che non giurerei ci fosse. Rivediamo. Vediamo il momento in cui parte il lancio. Non c'era. Paolo Sousa. Vittor Panera. Joao Vieira Pinto. Joao Domingos Pinto. Signori su di lui. Ultimo tocco portoghese. Rimessa azzurra. Baresi. Poco più di cinque minuti alla fine del primo tempo. Costa Curta. Colpisce Donadoni. Poi Baresi. Il colpo di testa è bello di Casiraghi. Per Roberto Baggio. Va Roberto Baggio. Cerca Stroppa. In area Stroppa. Due avversari su di lui. Bravissimi. Della raddoppia i portoghesi. Vedete la difficoltà di Stroppa nel girarsi. Ed è bravo. Mi sta realizzando. Viene a aprire dalla bandierina. Signori. Superando il quarantesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Con situazione ferma sullo 0-0. C'è accanto Signori Stroppa. Solita contestazione per la distanza dei due giocatori portoghesi. Signori. Il cross. La finta. Poi Stroppa. Ben arrivo. Signori. Parte il cross. Stacca Maldini. Palla in area. E... Giorgio Costa. Che anticipa Casiraghi in angolo. La gara non ha avuto un attimo di pausa. La gara non ha avuto un attimo di pausa. La gara non ha avuto un attimo di pausa. La gara non ha avuto un attimo di pausa. Calcio. Calcio di punizione. Calcio di punizione. tanto a lui avete visto picco Fernando Conto Barista Paolo Sol altissimo fuori gioco Valdini uno sbarione poi Pagliuca in due tempi e ripartono gli azzurri con questo lancio fuori misura c'è comunque un fallo di mano al centrocampo gioco, fermo calcio di punizione Stroppa Benarrivo con lui ecco Benarrivo Roberto Baggio attenzione al fuorigioco fermato Roberto Baggio dall'ottimo veloce giocatore molto esperto il rilancio di Rui Costa Pagliuca dribbua Futre attenzione poi tocca a Benarrivo di prima Donadoni va Donadoni al dribbling Stroppa patente di trovare un fuori d'olio c'è gioco distruzione su di lui non interviene l'arbitro Wojcic la palla è portoghese Rui Costa Paolo Sousa Vitor Panera Rui Costa vedete il tipico gioco portoghese di tempo in tanto rallentano il gioco questa fitta serie di passaggi trasversali per attendere il momento opportuno di verticalizzare buona la fitta Vitor Panera e sono buoni giocatori portoghesi Veloso Paolo Futre ma Futre 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 Joao Pinto Paresi colpo di testa ora di Giorgio Costa quello di Fernando Couto la palla per Veloso meglio organizzato il Portogallo in questa fase finale del primo tempo siamo sullo 0-0 al 44esimo Vitor Panera secco lo scatto non si capisce con Joao Pinto la palla per Baresi ora per Donadoni stroppa Tino Baggio ben arrivo Donadoni Baresi Fernando Couto vedete come si provino molto meglio i portoghesi Donadoni signore proviamo lo aspetta Joao Pinto il passaggio è su Roberto Baggio parte il cross di Baggio il punto di testa di ricosta la palla è fuori per Signore sentendo un avversario come il secondo Dino Baggio anticipato palla in fallo la berada concentratissimi molto bravi i portoghesi costa curva da Resi dal conto di testa di Pasiraghi per Roberto Baggio ora Signori sulla sinistra gli si avvicina Joao Pinto parte il cross il conto di testa di Fernando Couto eccellente nel gioco aereo palla in calcio da vedete in qual lato è tutto Fernando Couto uno dei tanti gioiellini con i quali Queiroz il tecnico portoghese ora della prima squadra ha conquistato due titoli mondiali a livello di calcio giovanile parte il tiro dalla bandierina e Joao Pinto che mette fuori Donadoni l'arresto buono il tocco esterno per Signori immediato il cross troppo profondo si spegne a fondo campo tempo scaduto come vedete si stanno giocando gli attimi di recupero del primo tempo di Italia Portogallo il risultato è di 0 a 0 e un risultato che ci garantisce ancora la qualificazione per la fase finale dei mondiali ma naturalmente si tiene in costante apprezzione Rui Costa Futre Vittor Panera il fischio dell'arbitro che manda le due squadre negli spogliatoi un primo tempo caratterizzato da un avvio spumeggiante molto intenso degli azzurri che per una decina di minuti hanno costretto sulla difensiva i portoghesi poi lo slancio degli italiani si è un po' spento affievolito e i portoghesi hanno avuto l'opportunità di dimostrare tutta la loro ottima organizzazione di gioco tra l'altro Kairos come vi dicevo che ha comunicato la formazione all'ultimo momento ha optato per l'inserimento di alcuni giocatori molto esperti come Vittor Panera è veloce che sembrava dovessero restare in panchina e il portogallo ha confermato di essere avversario temibilissimo nel frattempo mi segnala Casarin che a Zurigo la Svizzera è passata sul 3-0 festa grande della vicina confederazione la Svizzera dopo tanti anni è ormai certa di andare alla fase finale dei mondiali ancora negli spogliatoi abbiamo qualche attimo di tempo perché Giampiero raccolga qualche altra testimonianza vai Giampiero buonasera abbiamo abbiamo molti presidenti io penso il presidente Berlusconi un giudizio su questo primo tempo degli azzurri un primo tempo che dai tecnici trappatoni buon insegno non è stato giudicato all'altezza però si capisce la difficoltà per esempio da questa parte con Grazie Gagliani dello spazio allora lei come ha visto l'Italia? beh un'Italia un poco in difficoltà perché si è incontrata con una squadra benissimo organizzata che sa giocare calcio con geometrie perfette e quindi probabilmente superiore alle aspettative però non direi che l'Italia ha mal figurato abbiamo avuto qualche occasione di tiro apprezzabile e credo che adesso nel secondo tempo ci rifaremo siamo giudici grazie Presidente Berlusconi Presidente Nizzola lei da un punto di vista non solo tecnico ma anche con le prova della squadra cosa ha visto? ma indubbiamente è una squadra che in questo momento soffre un po' dell'importanza della gara si legge nettamente che c'è un po' di paura e di preoccupazione e questo condiziona sempre la prestazione che subisce molto di questa preoccupazione che è chiaramente mi auguro che possa rimrancare gli spiriti e che vediamo se possiamo vedere un secondo tempo più tranquillo e più sereno grazie ringrazio anche Presidente Bellostone Presidente Pellegrini velocemente una battuta un'Italia ha la responsabilità di ben figurare comunque c'è fiducia speriamo in un secondo tempo sicuramente migliore grazie ancora Presidente grazie bene tutto è pronto per l'inizio del secondo tempo ancora 45 minuti di ansia e anche diciamolo pure di paura il risultato finora ci è favorevole vi ricordo che gli azzurri può bastare anche il pareggio ma naturalmente il Portogallo ha confermato la bontà del suo gioco e la qualità dei suoi singoli non ci sono state sostituzioni durante l'intervallo il colpo di testa dopo Casieraghi è stato di Giorgio Costa due giocatori a terra Fernando Couto e Casieraghi avete il giovane Fernando Couto che è rimasto contuso nello scontro con Casieraghi Fernando Couto è uno dei molti giocatori che facevano parte delle formazioni giovanili per due volte vittoriose del mondiale Luneores attualmente a 24 anni si rialza Casieraghi e ancora terra Fernando Couto avete sentito anche nelle dichiarazioni raccolte da Galeazzi durante l'intervallo come ci sia ancora fiducia ma c'è anche preoccupazione e ansia mentre così come era stato annunciato c'è la presenza del presidente del consiglio Ciampi sempre a terra Fernando Couto c'è da dire in linea di valutazione tattica generale che la squadra di Sacchi a lungo non ha portato il pressing a tutto campo snaturando un po' quelle che sono le filosofie di gioco dei Sacchi che vedete inquadrati d'altra parte l'esigenza di cautelarsi alle spalle ha comportato un atteggiamento di una certa prudenza grande avvio degli azzurri poi i portoghesi si sono fatti valere come proprietà di palleggio e buona organizzazione collettiva di manovra il colpo di testa di Rui Costa per l'inserimento di Paolo Sousa che tenta di andare via sulla sinistra ma si trascina il pallone in pallo laterale si gioca da due minuti del secondo tempo la palla è per Costa Curta Barifi Costa Curta a cercare ben arrivo su quale c'è fallo calcio di punizione per la nazionale italiana un pallone affidato a stroppa il disturbo di Rui Barros il raddoppio da parte di Veloso la rimessa per ben arrivo indirizzata su Roberto Baggio pallonetto di Roberto Baggio forbice di Veloso palla per Rui Costa che disimpegna in pallo laterale ben arrivo Barifi Barifi questa curta Barifi c'è Maldini libero da quest'altra parte lo vede Barifi e lo serve buono l'arresto il passaggio per signori colto in controtempo Joao Pinto Joao Vieira Pinto cambia Giofo c'è Rui Barros ben arrivo su di lui Joao Pinto Donadone Dino Baggio signori si sovrappone Maldini converge signori palla per Dino Baggio ancora signori c'è Maldini troppo profondo il suggerimento finta di Joao Pinto e palla che si spegne a fondo campo signori non ha giocato l'ultima partita d'allenamento la leggera contrattura muscolare regolarmente in campo in quest'azione dei portoghesi con Rui Costa vedete come in maniera addirittura plateale rallentino la manovra approfittando del fatto che i nostri non portano il pressing nella metà campo avversaria e questa è una caratteristica che non è consueta nelle squadre di Sacchi d'altra parte le esigenze del risultato suggeriscono agli azzurri un comportamento piuttosto prudente lunghissima questa serie di palleggi da parte dei portoghesi ora accendono il pressing gli azzurri ma c'è questo lancio in profondità sul quale Costa Curta è in vantaggio si gira Costa Curta offre il pallone ben arrivo Baresi scatta ben arrivo e si sovrappone eccolo servito ma chiudono benissimo tutte le zone del campo i portoghesi la ballare per Roberto Baggio Roberto Baggio largo per signori non batte di prima e poi il suo tiro è deviato e il fallo di Roberto Baggio sul portiere di Torbaia vanno i portoghesi a protestare contro Roberto Baggio e ci sarà ammunizione ammunito Roberto Baggio secondo giocatore ammunito della partita nel corso del primo tempo cappellino giallo per Paolo Sousa a terra il portiere Vittor Baia rivediamo signori non ha battuto di prima poi la sua conclusione è stata sfiorata da Joao Pinto parata dal portiere Vittor Baia sul quale c'è stata la carica di Roberto Baggio approfitta ancora di questa pausa Keiros per chiamare accanto a sé Futre e dargli alcune indicazioni mentre vedete che sembra a terra il 24enne portiere Vittor Baia gioca con il Porto eppure essendo molto giovane ha già 27 presenze in nazionale si rialza Vittor Baia è a posto sono trascorsi 6 minuti nel corso del secondo tempo il risultato è di 0 a 0 Paolo Sousa grande organizzatore di gioco nelle file portoghese poi questo lungo lancio di Rui Costa in profondità per il colpo di testa all'indietro opportuno di benarrivo e la presa di Pagliuca che va a rinvio lo stacco di Casiraghi la palla messa giù da Vittor Paneira affidata a Joao Pink che calcia direttamente fuori aveva tentato di imbeccare Futre ancora Pagliuca posta curva Barese sbaglia Rui Baros imperfetto anche il suo rilancio il colpo di ginocchio di Maldini la palla per Joao Pinto poi Barese Maldini pare un po' bloccata contratta la nostra nazionale signori Roberto Baggio scivola sul terreno in fido Fernando Couto lo dribbla elegantemente torna su di lui Baggio signori ancora Fernando Couto per Vittor Paneira Joao Pinto Vittor Paneira Maldini Baresi Tagliuca non è tranquilla la nostra nazionale Dino Baggio Roberto Baggio signori dentro per Casiraghi chiude Fernando Couto Joao Pinto Paolo Sousa giocatore tatticamente molto intelligente Joao Pinto anticipo di Maldini poi ancora Joao Pinto con la punta del piede di fuori la rimessa di Joao Pinto per Vittor Paneira dalla parte opposta a imbeccare Veloso va Veloso cerca di dribblare Stoppa che lo ferma ma la palla è ancora dei portoghesi con Rui Costa che tocca l'indietro a Jorge Costa Paolo Sousa Futre si gira ottimamente Futre David Tormoneira ma al centro lo ha vinto poi Dino Baggio Calimedia Casiraghi possibilità di contropiede soffriamo però troppo Stroppa commette fallo vantaggio poi al secondo intervento falloso fischia l'arbitro Paolo Sousa Palla dentro per Futre ultimo tocco di Futre rinvia da fondo campo ma siamo qui in trepidazione 9 minuti per il corso del secondo tempo 0-0 si tiene sulle spine il portogallo Signori Dino Baggio C'è il signore eccolo lo aspetta Joao Pinto lo punta Signori converge in area va verso il fondo il suo tiro e l'implacabile Fernando Colt ferma anche questa iniziativa ma in angolo corner per l'Italia va a battere Signori e poi manca il pallone ben arrivo Donadoni costapurta Baresi in avanti in qualche modo Fernando Colta Joao Pinto scotta la palla tra i piedi ai nostri l'amministrano con maggiore attenzione sagacia i portoghesi Rui Costa dentro però Joao Pinto attenzione Rui Baros sulla sinistra parte traversione Baresi contemporaneamente Joao Pinto ultimo tocco di Baresi angolo per i portoghesi non è d'accordo per un arbitrale comunque che decreta l'esecuzione del giro della bandierina con Vittor Paneira 11 minuti il secondo punto 0-0 Portogallo la fiera d'angolo Pagliuca è venuto in avanti come sempre Fernando Colto proprio Fernando Colto ma con un colpo di mano l'ha segnato il gol del Portogallo Giorgio Costa Donadoni lo attacca ma sono bravissimi i portoghesi c'è un fallo di signori norma del vantaggio si prosegue alla fine Maldini che mette fuori su Rui Costa arriva Joao Pinto Paolo Sousa gran giocatore Rui Costa Paolo Sousa vedete con quanta precisione distribuisca palloni su palloni c'è l'anticipo di Costa Curta la palla però per Veloso tutta la nostra nazionale è nella nostra metà allora c'è un brecco stroppa dentro a cercare Casiraghi trova il controllo Casiraghi Veloso su di lui si ferma Casiraghi cerca lo spazio per il traversone lo trova ma la presa di Vitor Bahia non è difficile Paolo Sousa gara intensissima Joao Pinto ancora Paolo Sousa di prima su Rui Costa dentro un pallone che però è controllato da stroppa giocato su Donadoni c'è signore libero eccolo servito si vuole calma ancora Donadoni viene Maldini anche prova la soluzione dalla parte opposta invece Donadoni e stroppa si avventura in un tentativo di controllo che non gli riesce Vittor Bahia Paolo Sousa è la fonte del gioco del Portogallo Vittor Panera ancora Paolo Sousa largo su Veloso Rui Baros il conto di testa di Costa Curta la palla per Roberto Baggio ora per stroppa per Pino Baggio Donadoni non si intendono i nostri e giocano con eccessiva precipitazione ora è Costa Curta da ben arrivo da questi a stroppa palla per Roberto Baggio c'è fallo di lui di Giorgio Costa facendo che si può proseguire l'ambito l'azione era fallosa stavolta viene in avanti il Portogallo ancora con Rui Baros Baros Giorgio punta Fernando Costa viene fermato Giorgio Pinto ancora Maldini autore di una buona prestazione che si sposta in avanti cerca la collaborazione di stroppa Maldini fuori gioco 14 minuti del secondo tempo 0 a 0 è una partita che ricorderemo a lungo per la grande tensione vediamo il lancio e anche in questo caso non c'era fuori gioco vedete che sul centro del teleschermo c'era Fernando Couto che teniva il gioco Maldini immagine di nuovo in diretta ben arrivo combina con stroppa stroppa si libera la palla a favore di Tino Baggio ora Donadoni ancora un passaggio troppo lungo ma Donadoni con il punto del piede riesce a dare a signori va signori la collaborazione con Roberto Baggio signori calcio di punizione protesta Fernando Couto toccante sul piede d'appoggio signori lì vicino Volci che sta ben dirigendo comando il calcio di punizione la scorra con grande lentezza e i minuti mentre si prepara anche il fine lo vedete inquadrato tanto grandi nano gol Zurigo 4-0 dalla Svizzera sull'Estonia Svizzera negli Stati Uniti Donadoni sulla palla Roberto Baggio poco più indietro anche signori in posizione di eventuale tiro cambio cambio esce stroppa entra costa Albertini cuore stroppa dentro Albertini tutto questo al sedicesimo del secondo tempo prima sostituzione della gara Baggio è un assinuro che si perde a fondo campo di niente grandissima conclusione di Roberto Baggio e palla fuori di pochissimo rivediamo vedete il destro fondato rabbiosamente di collo pieno esce di un niente Gioao Pinto Vittor Panera Paolo Sousa Rui Costa Veloso Gioao Pinto costa curta su di lui lo ferma rimesso l'effetto a Gioao Pinto lasciando poi l'incarico a Rui Costa all'indietro per Veloso Veloso disturbato da Donadoni che lo ferma ancora in fallo laterale 17 minuti nel prossimo secondo tempo 0-0 Dino Baggio poi un pallone per Rui Barro scona per Futre Baresi su di lui largo a cercare Gioao Pinto la combinazione con Vittor Panera il recupero dell'impeccabile Maldini la palla per Roberto Baggio c'è un buco dall'altra parte ecco Dino Baggio c'è Donadoni libero eccolo Donadoni ora gioca esterno Albertini centrale sovrapposizione di Benarrivo va Donadoni dentro Benarrivo Dino Baggio Albertini è uscito stroppa calcio di punizione intanto per la nostra nazionale parte da fuori Dino Baggio in area sono Maldini Casiraghi il colpo di testa di Giorgia Costa l'anticipo di Baresi Baresi largo per Maldini parte subito il cross di Maldini Fernando Colto ecco Albertini Baresi Baggio 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 il destro sul fondo Paolo Sousa Giorgia Costa sbaglia Baggio Roberto con il seguito da Dino c'è una deviazione ma c'è Donadoni che ora gioca largo vedete il fondo del terreno molto irregolare bravo Donadoni a mantenere il passaggio della palla prima baggio largo a cercare signori arriva di gran mulato a Maldini eccolo servito può effettuare il cross effettuato ma sul coppiero di Torbaia rilancio immediato di quest'ultimo non c'è un attimo di pausa il colpo di testa di Baresi la palla per signori cresce la nostra nazionale cambia il gioco molto bene signori e c'è Donadoni che mette in movimento Benarrivo va Benarrivo si propone Albertini riceve c'è anche Donadoni il pubblico percepisce che è un buon momento della nostra nazionale la incoraggia ecco Roberto Baggio Roberto Baggio al limite dentro per Casiraghi ancora Roberto Baggio Fernando Couto faccio tiro e Dino Baggio ma centrale para Vittor Baia partita vibrante sentite il pubblico di San Siro come incoraggia la nostra nazionale gioco fermo calcio di punizione per farlo seguito da João Tinto abbiamo rivisto la precedente conclusione di Dino Baggio comparato di Vittor Baia 20 minuti del secondo tempo 0-0 Dino Baggio Roberto Baggio Casiraghi signori Albertini posta curta Baldini signori signori pronti a raddoppio ai portoghesi giudicata regolare mi pare che l'ambito abbia ragione l'entrata di João Tinto la palla è ora per Paolo Sousa per Fernando Couto per Veloso Vittor Panero si avvicina il passaggio però avviene su Paolo Sousa l'arco ancora a cercare di João Tinto il quale dà in proponità l'ordine sul quale Pino Baggio interviene signori Baresi in sovrapposizione tenta il triangolo lungo con lui Roberto Baggio ma sbaglia a fare più tonica la nostra nazionale con Donadoni esterno e Dino Baggio e Albertini centrale Veloso costa curta molto bene ben arrivo Baresi Albertini torna sui suoi passi tiene il pallone se ne libera opportunamente su Maldini Maldini signori Roberto Baggio Albertini suggerimento molto bello per Casiraghi e qui c'è la rigola qui c'è la rigola nel modo di vedere in ritardo il portiere Vittorio Bahia impatta sul piede di Casiraghi rivediamo il lancio bellissimo di Albertini Casiraghi anticipa il portiere e mi pare di aver visto che c'è netto il tocco sul piede d'appoggio e l'arbitro concede un calcio d'angolo che non c'è c'è la rigola al 22esimo del secondo tempo signori palla spiova in area la mette fuori Joao Pinto la recupera Roberto Baggio cambia su Donadoni c'è la sovrapposizione di Benarrivo parte il cross Fernando Couto palla in area Vittorio Panera bisogna disturbarlo il rilancio per Joao Pinto fallo di Albertini su di lui pronto a entrare in campo nelle file dei portoghiesi Domingos è un attaccante esce Rui Costa un centrocampista il tutto per tutto da Keiros 23 i minuti del secondo tempo Rui Costa esce e entra Domingos Domingos va a sistemarsi subito centralmente nell'attacco dovrà vedersela con lui Costa Curva palla intanto affidata a Veloso qualche attimo fa mi pare di poter dire che l'intervento delle portiere Vittor Bahia su Casiraghi era da calcio di rigore Giorgio Costa Paolo Sousa Joao Pinto ancora fallo di Albertini rivediamo Portoghesi in azione con Giorgio Costa Joao Pinto c'è calcio di punizione e ammunizione ammunizione per Veloso probabilmente si ammunito Veloso squadra più equilibrata con Albertini centrale Donadoni esterno Donadoni quando punta l'avversario sull'uno contro uno ha molte probabilità di farlo fuori e questo naturalmente determina una situazione di vantaggio tattico qui è Veloso che ha ostacolato irregolarmente Donadoni mentre si è rialzato Signori riprenderemo con un calcio di punizione a favore degli azzurri che sta per battere Roberto 25 minuti nel secondo tempo il cross un colpo di testa la palla fuori per Albertini prova al destro ribattuto è pronto Baresi di prima tenta di imbeccare Signori ancora Albertini un po' corto Signori però riesce ad entrare in possesso del pallone poi Cincischi alla palla palla fuori sull'iniziativa di Futre anzi del nuovo entrato Domingos Baresi a cercare Casiraghi Dino Baggio il presso che è riuscito Roberto Baggio Dino Baggio Dino Baggio fuori Roberto Baggio Casiraghi limite destro sparacciato all'estel potenziano di dare il giro col collo interno al pallone accolpito di collo pieno e la palla naturalmente è finita lontanissima Fernando Couto vedete vedete che in effetti costa curta alza su Joao Pinto in maniera irregolare una gamba per questo calcio di punizione attenzione ai colpitori di testa del Portogallo sono in particolare i due difensori centrali in tre in tre in cinque Giorgio Costa e Fernando Couto palla in area Marese Veloso all'indietro a Paolo Sosa splendido stacco di Maldini e palla in fallo laterale grande prova di Maldini fuori gioco fuori gioco di Domingos ma la nostra nazionale sembra avere ripreso un po' di confidenza ora il gioco è nelle mani degli azzurri anche se i portoghesi naturalmente costituiscono sempre avversari da tenere Bocchio intanto anche stavolta l'arbitro non fischia un fallo su Casiraghi Marese riconquista il pallone ecco Roberto Baggio ancora un buco sulla destra con Donadoni e Benarrivo Benarrivo punta veloce va verso il fondo non c'è fallo stavolta e l'azione si spegne a fotocampo Paolo Sosa Gioao Pinto che naturalmente ha retrato il raggio della propria azione da quando è entrato in campo l'attaccante puro Domingos palla centralmente a Vittor Panera ecco Domingos Domingos cerca di andare via ottimo palleggio sempre Domingos attenzione mi fa velo un compagno Domingos poi mantiene a lungo il passaggio del pallone e quando se ne libera il tocco è troppo lungo per Vittor Panera Pagliuca 29 minuti di gioco nel corso del secondo tempo 0-0 si sta scaldando anche Roberto Mancini ecco lui è veloso ora sulla palla e che non crea soverchi e preoccupazione a Vittor Bahia Paolo Sousa Joao Pinto l'altro Joao Pinto Vittor Panera Domingos Domingos contemporaneo a cambio di due elementi esce Signori entra Mancini nelle file italiane 31esimo del secondo tempo seconda sostituzione delle file italiane seconda sostituzione delle file portoghese nel Portogallo entra un altro attaccante Aguas Joao Pinto Paolo Sousa palla lunga non ci arriva nessuno fuori un difensore Joao Pinto dentro un altro attaccante Aguas Rui Aguas e José Aguas e quindi c'è ora una squadra portoghese imbottita di centrocartisti con due punte il colpo di testa di Fernando Couto Mancini Casiraghi Baldino Roberto Baggio ottimo Roberto Baggio punta verso l'area creato Giorgio Costa di più dello specchio angolo vediamo la splendida azione vedete il tocco e il tiro di Roberto Baggio che mirava l'angolino opposto è arrivato Giorgio Costa a rifugiarsi in calcio d'angolo il tiro della bandierina di Mancini e la palla sbucciata da Giorgio Costa viene bloccata da Vittor Bahia il colpo di testa di Casiraghi quest'altro di nuovo entrato Rui Aguas attenzione un pallone pericoloso per Rui Baros Maldini che poi subisce fallo mentre protesta vibratamente a bordo campo l'allenatore Kairos eccolo in quadrato vedete il delegato FIFA 32 minuti e mezzo nel corso del secondo tempo Portogallo sbilanciato in avanti ancora un grande stacco di Fernando Couto a centro campo poi Casiraghi Dino Baggio Mancini a cercare Casiraghi Casiraghi deve venersela ora con Vittor Paneira che è un centrocampista ma gioca in difesa Mancini ritarda il tocco viene fermato Gioao Pinto Vieira Domingos Baresi Veloso dall'altra parte gioca il tutto per tutto il Portogallo mancano poco più di 10 minuti al novantesimo la palla è per Paolo Sousa ora per Fultre fermato Albertini in combinazione con Donadoni calma dentro a cercare Roberto Baggio fermo la palla Roberto Baggio lascia correre l'arbitro c'è il rilancio di Veloso l'ottimo intervento di Ben Armido la palla è per Donadoni dribbling secco ai danni di Paolo Sousa Madonna Donadoni da centrocampista Roberto Baggio da quest'altra parte a Mancini il tiro di Mancini con il destro sul fondo Paolo Sousa Vittor Paneira saltato Mancini Baresi Albertini Mancini Baresi avanza Baresi l'ha messo giù fallo da munizione e in effetti l'arbitro ammonisce l'autore del fallo e si tracca di Domingos ammonito ora praticamente il Portogallo ha rivoluzionato tutto il suo assetto per la squadra di Keiroz bisogna trovarle tutte per vincere questa partita Baresi a noi basta anche il pareggio ma quanta sofferenza fino a questo momento Albertini dentro il rinvio di Giorgio Costa il colpo di festa di Benarrivo la palla verso Casiraghi ancora Giorgio Costa Poglino Baggio Paolo Sosa centralmente Joao Pinto Baggio lo ferma e poi c'è un fallo dello stesso Roberto Baggio tutto si potrà dire ma non che questo arbitro si abbia favorito ricordo in modo particolare il 22esimo del secondo tempo l'intervento da rigore su Casiraghi Vittor Paneira fuori gioco fuori gioco di Domingos Parisi il colpo di festa di Vittor Paneira Paolo Sosa sempre nella posizione giusta l'esterno ancora per Vittor Paneira Paolo Sosa pronunciano il pressing di Nostri retrocedono palla per Veloso Joao vi è rapinta c'è Donadoni su di lui palla fuori calma ci vuole calma ben arrivo ancora ben arrivo butta in profondità dove però non ci sono i giocatori italiani Vittor Paneira Fernando Couto Paolo Sosa lo Sosa fiondata in profondità ben arrivo arresta e rilancia un pallone sul quale è pronto Dino Baggio ecco Mancini bene è pronto per Dino Baggio entra in area Baggio Roberto Baggio finca tiro Dino gol è pronto Dino Baggio al trentottesimo del secondo tempo ma in vantaggio d'Italia Continuo Baggio ed è un gol che si fa tirare un respiro di solliero sommerso dagli abbracci dei compagni richiede l'olazione di San Siro impietrito dall'emozione Parigo Sacchi ecco Dino Baggio Roberto Baggio che fa sfidare il pallone va al tiro tiro che viene ribattuto ma c'è Dino che può mettere dentro a botto sicura uno a zero trentottesimo del secondo tempo Italia in vantaggio Continuo Baggio attenti ora ancora sette minuti da giocare Vittor Panera destro lungo Baresi Palla rimessa verso il mezzo Benarrivo fallo fallo su Albertini poi la confusione di Domingos fermata da Benarrivo Veloso per la rimessa Paolo Sousa Veloso fermato ancora Paolo Sousa grande partita la sua attenzione fuori gioco fuori gioco di Futre che per la verità non si è visto molto giocatore più tenuto dalle file dei portobesi ora tutto San Siro in piedi a urlare il suo incitamento agli azzurri trentanove minuti di gioco nel corso del secondo tempo uno a zero Mancini Vittor Vittor Paneira poi Dino Baggio Casiraghi ancora Casiraghi può toccare a Maldini Maldini di prima assai bene su Mancini Mancini cerca e trova Roberto Baggio da Roberto Baggio a fondo su di Salabito recupera Mancini si lotta accanitamente Albertini Giorgio e Costa Veloso ancora Albertini ha giocato benissimo Donadone va Donadone tiene la palla bene così cerca il fallo non interviene all'arbitro Paolo Sousa suggerimento per Joao Vieira Pinto che va via su una sinistra la disturba ancora benissimo ben arrivo e c'è comunque angolo ha giocato assai bene anche ben arrivo mentre mi pare di poter dire che continuerà in campo di Albertini la situazione è molto migliorata nella nostra squadra il foro di Sonsiro a terra Joao Vieira Pinto il gioco è ancora fermo perché si prestano alle pure del caso un giovane attaccante Joao Vieira Pinto attualmente in forza il porto prodotto comunque nella scuola calcistica del Boa Vista in piedi gioco anche se Zotti che parte un tiro ad Antalo il colpo di testo è un grande foto poi il pallone fuori attenzione attenzione merda a fiocchi pelle russa puribonda con la parte di Pagliuca gioco 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 tornando colto mette calma Pagliuca l'arbitro Albertini colpito al capo un attimo di grande emozione vedete Costa Curta che se la prende con Rui Barros si mette in mezzo anche Domingos Spintoni Giorgio Costa tutto ok calma di stabilità intanto il cronometro segna 42 minuti e 50 secondi ci sarà naturalmente qualche attimo di recupero Pagliuca Maldini Mancini Fernando Couto Pallo Sol fallo di Fernando Couto russa out Fernando Couto espulso saltano i nervi ai portoghesi Fernando Couto espulso eccolo che con la sua zazzera su ne va rivediamo vedete Casiraghi Manro Meshion su Casiraghi quindi si stava avvicinando ancora a terra Casiraghi portoghesi portoghesi sotto di un gol in dieci certo va detto che dispiace vedere una formazione come quella portoghese così bene organizzata esclusa dalla fase finale dei mondiali ci ha fatto soffrire molto la squadra dei Kairos stasera Albertini Mancini Maldini Breg scatta in avanti Aguas Largo Domingos sempre Domingos gran palleggiatore pallonetto fuori gioco fuori gioco di Futa Donadoni scatta anche quella di Benarrivo ottimi i nostri due difensori esterni ecco Benarrivo va subito al cross da quest'altra parte Casiraghi può toccare su Mancini eccolo carica questo Mancini non batte cerca un'altra soluzione cambia il gioco dalla parte opposta a favore di Donadoni Donadoni al limite dell'area a sinistro alto applausi del pubblico 45 minuti di gioco entriamo nel recupero stiamo vincendo 1-0 ci basta anche il pareggio Paolo Sousa forse il migliore in campo Rui Baros Baggio Donadoni Roberto Baggio bisogna tenerla Casiraghi Mancini si toglie dal fuorigioco Roberto Baggio Mancini in profondità e lo intuisce Giorgio Costa dal portiere che con i piedi da Paolo Sousa anticipo splendido di questa curva Mancini pallonetto fuori gioco fuori gioco di Casiraghi un minuto di recupero 1-0 a San Siro dell'Italia sul Portogallo Vittor Panera raggiungendo Sacchi che naturalmente è circondato dai fotografi si abbraccia Gigi Riva ecco che raggiungiamo Enrico che sta facendo il sorriso la paura la paura Enrico è stata tanta questa volta ma ce l'abbiamo fatta abbiamo fatto un buon secondo tempo noi al tempo avevamo troppa paura e allora abbiamo sofferto perché loro sono bravi dobbiamo fare i complimenti anche a loro l'Italia è un po' tesa mi sembra al primo tempo e cosa è successo nel secondo sulle situazioni di Albertini nel secondo tempo invece non ne avevamo e allora li trasferavamo di più per gambi a palla la gestivamo anche di più hai tenuto il peggio a questo punto grazie il Portogallo molto nervoso alla fine ci sono state anche una mischia lì sei un pochettino se ti vuoi recuperare dici un'altra cosa Enrico siamo in America a questo punto l'atmosfera è quella quasi come una partita del mondiale siamo solo andati in America il tuo lavoro fino a questo punto ha prodotto qualcosa di buono sei soddisfatto anche se questa partita di questa sera è stata più che sofferta ringrazio sì sì sono sono contento in questo momento molto stai circondando dai fotografi un'altra cosa Enrico l'uomo migliore in campo secondo te questa sera è difficile dire uno nel secondo tempo sono stati bravi veramente tutti scusa saluto l'arbitro d'accordo che va saluto l'arbitro vediamo il gol di Tide Baccio il gol che ci ha tolto ogni paura sono davvero circondato vedo abbracci a non finire perciò ti ristudisco la linea se sei d'accordo Bruno sì io sono ancora qui in postazione penso che sia già stato attivato lo studiolo nel quale ci dovrebbe essere qualche collega a meno che Marco Civoli non abbia qualche ospite nella zona VIP Marco mi senti? grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti